Mi raccomando, grazie professore. C'è una comunicazione che direi è molto importante da fare, perché fino a domani, domenica pubblicità, noi possiamo sostenere proprio il progetto MediCinema che ha realizzato una prima vera sala cinematografica in un grande ospedale italiano, il Giamelli di Roma. Un film infatti, secondo molti medici, può essere terapeutico e vedere un film in ospedale può dare molto sollievo ai malati e ai loro familiari. Allora, noi dobbiamo però sostenerla, questa iniziativa, come? Basta inviare un sms al 45514 per donare 2 euro, oppure chiamare lo stesso numero di telefono fisso per donare 5 oppure 10 euro. Mi raccomando, partecipiamo numerosi, perché questa è un'iniziativa molto interessante. Ciao, voletevi bene! E' un'azienda e felice giubere! Ciao!